allora ragazzi io vi dico già in partenza non è per essere complottista ma ormai la verità ve la metto davanti agli occhi ok che ormai stiamo arrivando al punto che inverno ce ne sarà poco e niente ok perché le temperature non è normale questa cosa qua io mi ricordo che nell'85 zona di Cagliari ok ma penso in tutta la Sardegna siamo arrivati a una temperatura di quasi già di 30 gradi a dicembre dicembre 30 gradi nell'85 due anni fa o anzi due anni fa l'anno scorso qui in Sardegna Tempio Posania siamo arrivati alla stessa temperatura di notte cioè perché la sera la sera alle 6 e mezza cioè la sera la mattina alle 6 e mezza ci sono temperature primaverili cioè si esce con la camicia con un paio oppure con una felpettina cosa che qui a Tempio Posania era impossibile quindi se l'anno scorso era così nell'85 a dicembre a 30 gradi ok 30 gradi a dicembre poi quest'anno di nuovo si ripete ragazzi quest'anno è una sostituzione demografica cioè loro stanno controllando il tempo loro stanno innalzando le temperature ok perché perché così le stanno innalzando perché fra poco ci sarà poco e poco freddo ok cioè lì il freddo sarà poco l'inverno sarà diciamo concentrato sarà molto più freddo ci sono grandissime nevicate però l'inverno durerà poco l'inverno durerà poco e l'estate sarà molto più consistente con temperature anche di 46 47 48 cioè in certe zone dell'america ok anche in africa arrivano anche a 50 gradi qui stiamo arrivando a 50 gradi quindi l'inverno lo stanno eliminando da certe zone geografiche e stanno praticamente sostituendo stanno facendo un innesto tra inverno estate quindi l'estate sarà sempre più lungo ok come a Cagliari perché a Cagliari e l'estate finisce a settembre ottobre quindi qui l'estate finiva ad agosto qui io parlo del nord Sardegna adesso qui siamo già a stiamo a fine a fine a fine ottobre oggi è 23 e ci sono temperature 16 gradi c'è 16 gradi a tempio Pasagna e primavera cazzo non è autunno non sono temperature autunnali sono temperature primaverili quindi io vi sto già avvisando di una cosa che vi dovete dimenticare l'inverno lungo perché l'inverno lungo non ci sarà più ci sarà un inverno corto ma intenso forte grosse nevicate ci sarà più un'estate molto lungo con temperature molto elevate molta gente non sopporterà molta gente non sopporterà perché molta gente il caldo non lo sopporta sopportano più il freddo io il caldo lo conosco da quando ero ragazzo perché sono nato nelle zone del caldo ok Cagliari quindi io il caldo lo conosco di più so come combatterlo ma le persone abituate natte e cresciute nel nord Sardegna non ce la faranno a un certo punto quindi sostituzione demografica questo lo stanno facendo per fare arrivare gli extracomunitari gli africani nigeriani senegalese di tutto e di più per poter sostituirli ok far lavorare come schiavi praticamente una unica religione un governo unico una moneta unica digitale e si salvi chi può